Si è tenuta sabato 2 settembre presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera la manifestazione organizzata dal sindacato SPI-CGL contro la mala sanità materana e lucana che ha visto la partecipazione di medici, istituzioni, associazioni e cittadini. Nell'occasione è stato presentato lo sportello sociale di ascolto e tutela legale sulla sanità che servirà a realizzare una banca dati con le segnalazioni e i casi più importanti e rilevanti e che si avverrà di un legale e di un medico. Vuole essere un punto d'aiuto e di riferimento per le tante necessità quotidiane che questa condizione complicata dell'offerta sanitaria nella città sta arrecando ai cittadini. Grazie